Buonasera a tutti ragazzi direttamente a House of Biker, stasera piccolo video velocissimo di presentazione dell'area che abbiamo qui interna ad House of Biker dove potete valorizzare tutto ciò che voi non utilizzate più. Questa è un'area dedicata al conto vendito ovviamente a tutto il mondo degli accessori, abbigliamento, editoria e ricambi. All'interno di House of Biker troverete il nostro mercatino di House of Biker dove tutto ciò che vedete qui è tutta roba di privati che non utilizzando più determinate cose vengono portate qui in conto vendita per essere vendute dove a tutto il resto ci pensiamo noi. Ovviamente in cambio avrete una percentuale nel momento in cui ci sarà la vendita ma sicuramente può essere una vetrina che vi potrebbe aiutare parecchio senza tutti i vari sbattimenti del web che spesso accadono. Quindi all'interno di House of Biker ci sono due o tre aree dove vengono dedicate secondo dei settori ben specifici tutto ciò che può essere utile a dei motociclisti. Quindi soprattutto per chi magari è attento ai prezzi o che comunque vuole cercare di risparmiare cercando determinate cose qua sicuramente potrebbe essere un'occasione di venire a fare un giro per vedere se ciò che è entrato può essere al vostro caso. E c'è veramente di tutto e potete portare veramente di tutto. Ovviamente poi all'interno del sito troverete tutte le informazioni dettagliate per fare questo tipo di servizio con noi. Un'altra area molto interessante e abbastanza esclusiva di House of Biker appunto è la nostra mitica biblioteca del motociclista che stessa cosa area che è stata creata negli anni dove tutta l'editoria di clienti privati che non utilizzano più o che appunto non hanno assolutamente voglia di buttare via all'interno di House of Biker si è creata veramente una raccolta spettacolare dagli anni 60 a oggi di tutte le tipologie di editorie che sono uscite negli anni. Sia italiane che anche estere. Tutto diviso per anni, categorie, tipologie di giornali. Quindi un posto spettacolare dove poter venire a fare le vostre ricerche, ricercare una prova e sicuramente qua la potrete trovare. Ovviamente è un posto che è sempre in costante crescita come tipologie di riviste che arrivano. Quindi probabilmente la prova della vostra moto dei desideri o dei vostri sogni di allora può essere che qua potreste trovare tutto ciò che a livello cartaceo era e che oggi magari diventa sempre più fondamentale. Quindi stessa cosa anche in quest'area potete venire a portare i vostri giornali, le vostre raccolte e sempre con una percentuale che vi verrà ovviamente restituita nel momento della vendita potete monetizzare quanto più possibile piuttosto che buttare soldi e oggettistica che così andiamo a creare la nostra economia circolare a 360 gradi. Detto questo vi aspettiamo qui all'House of Biker all'interno del nostro mercatino per venire a vedere tutto quello che costantemente arriva e perché no poter fare una buona collaborazione insieme e rimettere in vita e in circolazione ciò che normalmente verrebbe buttato. Un saluto e vi aspettiamo qui ad House of Biker. Ciao a tutti!